F***ing blue jazz, hai già ne l'immagine... Falco, il maestro qua! E vabbè, così non c'è ritegno. Oggi mi entra tranquillo... Già, salve! Sono Falco, il vostro insegnante di autodifesa. Perché questo mondo è maledettamente pieno di ladri, scippatori, stupratori, Winnie the Pooh e Manigoldi. Cosa c'entra Winnie the Pooh? Ragazzo, sembra tranquillo, ma taglia il miele con l'anfetamina. Ah, beh, allora... Dà una carica, gli dà, eh... Scusi, quel ciuffo biondo... Ma non lo so, ma è venuto, dopo che ho fatto 5 ore di meditazione Shaolin, a Paullo, accanto alla centrale nucleare. No, ma è pazzo, è pericoloso di fianco alla centrale nucleare. Dico, è pericoloso di fianco alle mutazioni genetiche. È pericoloso davanti alla centrale... Che hai detto? Non sento! È pericoloso davanti alla centrale. Ah, eh, parla forte, non capisco. Che schifo! Eh? Che schifo! Perché che schifo? La scella pelosa. Già! Ci sono segreti che soli veri ma... Ma che aia! Ma che aia! Soli veri maestri si tramandano da millenni. Io sono stato addestrato a dare la vita, a dare la vita per difendere la segretezza di 2000 anni di segreto, dell'ubicazione, dei punti di pressione, che sono tre. E per l'esattezza sono qua, qua e qua. Non erano segreti? Porca put... Ma sei scemo! Ma così gli arriva la... Di mila anni al vento! Ma dai, ma... Ma dai, non ci pensiamo. Ma sì, certo, io se ne frega, va! Buttata lì! Eh? Non se... No, io se ne frega, buttata via! Ah, eh, parla più forte perché... Non ti sento. Ma ce n'è uno, il più tremendo, ragazzi, è questo qua. Se premuto con la mano in questa maniera, appena levi la mano, ti succede una cosa terribile. Che è? Ti cagli addosso. No, ma non ci credo neanche molto. Parola di Falco. No! Dov'è il bagno? Eh, di là, di là. No, però è chiuso, è chiuso. Quello lì è chiuso. Fista, pista! Maestro, ha dimenticato l'orecchio. Come? Ha dimenticato l'orecchio. Ah, ok! Tenga! Grazie! Maestro Falco, un bel applauso!